Proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie in occasione della mostra Nane Zavagno, la natura e le forme, in corso nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato. Sabato scorso, infatti, ad accogliere i piccoli visitatori a parco, è stato lo stesso Nane Zavagno, che assieme a Sonia Boldarin li ha accompagnati nelle sale espositive ad esplorare in modo ludico e partecipativo la tecnica e i materiali da lui utilizzati per le sue opere. Che cosa possiamo insegnare ai bambini oggi dell'arte? Non la pretesa di insegnare l'arte, ma di avvicinarli possibilmente a queste tecniche, a queste cose, cioè all'arte in genere, abituarli a ragionare su piccoli elementi che uno alla volta riescono a formarsi mentalmente e a crescere, ad avvicinarsi a queste cose. I bambini più piccoli sono, più curiosi sono, cercare di far capire elementi primari del fare, capire che valore può avere un segno, che valore può avere un colore, lo stesso segno colorato con diverse tonalità e così via, e la combinazione di segni, cioè avvicinarli a un ABC del fare, questo è il mio modo di concepire, avvicinare i bambini per fare qualcosa e riuscire lentamente a farli capire qualcosa. Il prossimo appuntamento a Parco con Anne Zavagno sarà per domenica 2 dicembre alle ore 11.